Ragazzi finalmente si è chiuso il processo ad Avetrana, due ergastoli mamma e figlia, a lui, ma secondo me questo è da ricoverare, non è tanto normale, mi sembrano un po' pochi sei anni a zio Michele, tutti quelli che l'hanno aiutati, intanto quella povera ragazzina è l'unica che ci ha rimesso la vita. Si rifà il processo di Carlasco, si rifà il processo ad Amanda, vuoi vedere che magari sta... Jack